L'avete sentito La notizia di quei sedicenti tifosi laziali continuano a chiamarsi tifosi, sarebbe più bello chiamare le cose con il loro nome, cretini che dicono di tifare per la squadra della Lazio, i quali alcuni giorni fa andando alla partita sono stati dirottati, questa tifoseria laziale è stata dirottata per punizione dovuta agli atteggiamenti razzisti che a volte esprimono nel loro modo di dire ed essere tifosi, sono stati puniti mandandoli a sedere nella curva opposta a quella di solito dove stanno i tifosi romanisti. Vedete, di fronte alla notizia del genere, cioè che qualche dirigente di calcio, dirigente sportivo, punisce una tifoseria dicendo Tu domenica non vai a sederti sugli scranni che occupi abitualmente quando vai allo stadio, ma ti sposto di là dove abitualmente siedono i tifosi della tifoseria opposta. Con un po' di malizia mi chiedevo, i motivi sono due, allora tu che sei razzista io ti mando di là perché ti punisco con la stessa moneta, siccome tu sei intollerante e razzista verso i tifosi della Roma, ecco io ti mando per punizione, faccio anch'io il razzista e ti mando là, ma io credo in realtà che poi la motivazione sia molto più semplice, ed è che vedete, noi diciamo in genere genericamente che le persone sono dotate di intelligenza, però un po' credo che succeda quello che succede nelle statistiche, quando si dice, un tempo si diceva che gli italiani ognuno mangia un pollo, due polli, tre polli, si faceva la media perché c'era chi ne mangiava venti e c'era chi non ne mangiava neanche uno, poi facendo la media degli abitanti risultava questo. Io credo che questo succeda anche nell'intelligenza, che ce ne siano di quelli che hanno anche la parte degli altri e ce ne sono di quelli che non ce ne hanno per nulla, poveretti, dovremmo proprio avere compassione per questi. Ecco mi domando prima di tutto quale intelligenza abbia dimostrato quel dirigente sportivo che ha deciso di punire una tifoseria spostando i sederi da una piazza all'altra. Verrebbe da dire, si sperava in che cosa? Che ragionassero con la parte meno nobile del nostro corpo? Io credo che di fronte a una tifoseria che dimostra di essere rozza e ignorante perché razzista, non sia muovendo i sederi che noi muoviamo le intelligenze, sempre, ripeto, che qualcuno non abbia l'intelligenza nel posto sbagliato. Sta di fatto che questi tifosi, e quindi finito il capitolo di chi fa questa scelta per punire i tifosi laziali, comincia il capitolo dei tifosi laziali, i quali una volta che sanno di doversi sedere sugli scranni dei tifosi della Roma, cosa fanno? Prendono una foto di Anna Frank, che sappiamo che è quella giovane adolescente catturata ad Amsterdam, è poi condannata a morte, è morta ad Auschwitz perché è ebrea, prendono la foto di Anna Frank, questa adolescente, con un fotomontaggio le fanno indossare la maglia della Roma, la stampano su della carta adesiva e poi sugli scranni dei tifosi romanisti attaccano Anna Frank con la divisa della Roma. Un messaggio abbastanza cretino qual'era? Speriamo che i tifosi della Roma facciano la fine che ha fatto questa. Vedete, qualcuno ha detto che è stata una bravata, qualcuno ha detto che queste sono gogliardie di giovani. No, amici. No, amici. Questa è una cultura perversa che serpeggia in certi ambienti fanatici dove ancora la memoria del fascismo e del nazismo riesce ad entrare con la potenza che potrebbe avere un'idea di bene. Questo vuol dire che questi tifosi che frequentano certi circoli macinano questa cultura fascista e nazista perché ditemi voi quante persone, quanti giovani normali se gli chiedete chi era Anna Frank vi sanno rispondere. Chiedetevi a dei giovani normali quanti di loro sarebbero disponibili a pensare uno scenario dove si tira in ballo un ebreo mandato al forno crematorio per leggere le logiche della storia contemporanea o degli avvenimenti contemporanei. Nessuno, questi tifosi, che si dicono tifosi ma sono dei cretini, respirano evidentemente un'aria e una cultura che hanno sentito in alcuni circoli di orientamento politico ben determinato. Allora non si può dire che questi sono fenomeni isolati e la risposta l'abbiamo avuta su alcuni campi di calcio dove venivano proclamate nelle partite alcuni brani, venivano letti i passaggi di Anna Frank e del suo diario e parte della tifoseria che alzava la voce, che dava sulla voce gridando degli slogan tipicamente fascisti. Qua, amici, ci dobbiamo rendere conto che non possiamo permetterci di tornare indietro nella storia. Non possiamo permettere che il virus di una cultura infame infetti ancora la storia. Cari genitori, cari genitori, quando siete in casa i vostri ragazzi vi domandano l'iPhone, l'iPad, vi domandano queste cose. Qualche volta trovate il tempo per raccontare loro cosa ha voluto dire il genocidio degli ebrei. Ai miei fratelli ebrei vorrei dire, vorrei dire, fratelli cari, io sono con voi e non lo faccio per un discorso retorico, io sarò sempre al vostro fianco per battermi con voi per due ragioni. E sono due ragioni che un cristiano dovrebbe possedere, altrimenti smetta di andare in chiesa. La prima ragione è che la fraternità nasce dal fatto di essere creature umane, non dal fatto di essere bianchi, neri, colti, stupidi, questo, quell'altro, di essere buddisti, di essere ebrei, di essere musulmani, di essere cristiani. Veniamo al mondo senza sovrastrutture, non veniamo al mondo né ricchi, né furbi, né nient'altro, né ebrei, veniamo al mondo nudi. San Francesco quando muore si fa mettere nudo sulla terra per dirci con un messaggio senza parole che siamo venuti dal Signore così. Poi il mondo ci ha messo addosso le sovrastrutture che ci dividono. Ma noi la fraternità ce la dobbiamo giocare perché veniamo al mondo e siamo tutti uguali nella dignità. La seconda ragione è che gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori nella fede, veniamo da lì. E parte dei mobili di casa, e parte degli immobili, appartengono a noi e ai nostri fratelli ebrei. Se un cristiano non è d'accordo su questo, la smetta di andare in chiesa. Quindi non si può giocare con questo, non si può seminare il virus dell'intolleranza, non si può nemmeno sfiorarlo. E vi prego nelle famiglie, parlatene con i ragazzi perché capiscano. Infine lasciatemi dire una parola per il presidente della Lazio, che il giorno dopo è andato a portare una corona di alloro davanti alla sinagoga. Poi viene registrato inconsapevolmente finché da Milano telefona e dice vado a fare sta sceneggiata. rendere omaggio agli ebrei una sceneggiata. Io trovo che questo sia ancora più grave di quello che hanno fatto i ragazzi. Ha indossato la faccia, la maschera dell'ipocrita per far vedere un qualche cosa che in realtà non ha e che lo accomuna di fatto ai suoi tifosi. Si vergogni, presidente. Si vergogni, presidente. Lei forse col pallone si fa onori davanti ai suoi tifosi e avrà forse anche dei risultati economici. Ma davanti al mondo quello che sa ancora ragionare lei non vale nulla. Grazie.